ma buongiorno ragazzi e benvenuti di nuovo sul canale non ti sei ancora iscritto fallo subito perché sennò non va bene diventi un sumero in salsa cocktail e oggi siamo qui sulla strada di lumezzane dietro nello specchietto non so se si vede c'è quel suino di belle mamma mia giro veramente così non pensato non studiato come viene viene ormai inizia anche a fare un po' fresco però questa strada è sempre sempre bella i colori dell'autunno quest'oggi ci accompagnano in questo magico giro direzione pranzo perché ormai è luna siamo un po in ritardo e anche un po ritardati oggi però fa niente guarda che scioglievolezza come si inclina come smussa la roba non so cosa sto dicendo ma va bene lo stesso ragazzi l'ultima volta che ero qui con me le belle ha fatto il suino chissà se oggi sarà lo stesso andiamo nell'iperspazio mamma quando spingo i quattro cilindri a v mamma mia divento veramente tutto emozionato e umido come questa galleria mamma come tira su il naso l'aprilia queste curvettine umidi ormai sono sempre dietro l'angolo come belle che sempre qui dietro nello specchietto mannaggia lui fa una pressione mamma che suino il signor belle sapevo questo è il suo rettilineo c'è il suo nome sopra guardalo che disadattato guardalo tutto contento lui è tutto è un fuoco oggi il signor belle è lui che ci riscalda e come giusto che sia adesso nonostante facciamo le pine da ignoranti ci fermiamo a pranzare e vi faccio vedere belle come sexy mentre pranzo perché è un'emozione ragazzi dovete proprio cioè guardatevelo e come promesso panino specchiebri bello caldo e qua c'è belle caldo mamma mia a un chilometro da voi fame fame scrivete qua nel numero e sovrimpressione e vi arriva belle a casa con questo panino bello caldo e bello smocciolato adesso perché c'è un po' di freddo quindi fa mamma nice e niente adesso mangiamo se non si fredda e ci vediamo dopo in moto e come dicevamo prima adesso siamo di nuovo in moto ci ha raggiunto anche il sexy gamberone lì avanti davanti a belle e adesso siamo in zona coste faremo giusto due costolette così con un po' di sugo per vedere il da farsi guardalo pagliaccione slittatina leggera primo tornante così champagne umido mamma mia sto proprio lascia la riga sulla gomma però la D212 gran grip guardano il magico belle dipiniamo dietro al magico belle oh saponettina leggera mamma mia che grattone mamma ragazzi il gamberone sta facendo tappo oggi guarda lo suino 6 metri di gamba e grattata per tutto no 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 Grazie a tutti. Mamma ragazzi, poetico quasi, guardatelo, colui che tutte le donne bramano, che rallenta per i velox che stava andando un po' lunghino, guardalo su dicio, guardalo come saponetta. E riniziamo le curve dopo la pausa delle coste in zona lumezzane, così visto che il gamberone dietro di noi oggi non era ancora passato di qua, era un po' un peccato. Guardalo, il suino per eccellenza, guardalo che suino, ormai basta. Fende ruota anteriore, causa inutilizzo ragazzi. Oh che tandem! Mamma mia, lo scoppiettino dell'HP. Guardalo! Grazie signor Belle. Beh, la zona di lumezzane ragazzi come vedete è sempre sempre una leccornia. Ora però dobbiamo sbrigarci per andare un po' verso casa perché, sì, abbiamo degli impegni oggi. Andiamo anche qui. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Yeah.